Il 16 giugno dalle ore 9.30 alle 13 in piazza Carlo Santini a Capaccio Scalo l'associazione Diamoci una Zampa organizza la prima giornata del microchip in collaborazione con il comune di Capaccio Pessum, l'asolo Salerno che provvederà all'applicazione gratuita del microchip. I cani dovranno essere accompagnati da persone maggiorenni munite di documento di identità e tessera sanitaria. Carmine Quaglia invita tutti a partecipare dal suo profilo Facebook. Siete tutti invitati a partecipare anche chi è già in regola con il microchip ricordando che alle ore 12 ci sarà la benedizione dei cani con il paroco don donato. Microchip pare obbligatorio per legge ma è soprattutto un atto dovuto verso chi riempie d'amore incondizionato.